allora c'era un cacaglio che era disoccupato e insomma tutti i mattini gli vanno a un bar c'erano un amico e noi hanno un amico di sole fa senta totò ci vede che è nascita una fatica se però avessi fatto un guardiano e tu hai un problema tu non c'è sono problemi e va bene allora dice se non c'è sono problemi domani mattino dice ti faccio conoscere il principale di Sadita e tu così cominciai a fare gara giorni dopo niente si incontrano allo solito barro e poi niente le presenta il principale di Sadita e dice piacere sono dottore tizia caio e lui fa piacere mio sogno tutto sì mi raccomando qua dici quando non ci sono mi raccomando lei ha la responsabilità di tutto e la ditta nelle sue mani preoccupati dottor e niente la prima sera io devo fare servizio da scoprire un incendio e si brucia tutta la ditta si brucia tutto poi un anno dopo arriva al principale e la ditta non si la trova trova tutto bruciato dice era ammacolata che è successo tu qui era ammacolaticca era ammacolatina insomma questo volia spiegazione e io dove l'operata dice ma che è successo che la fabbrica mi è sparita era tutto disparato questo qua era disparato che porca miseria dice non si sacrifici una vita insomma è giusto dove è un guardiano e ci ha detto guardia ma che è incendio tutta la ditta dove era ditta ciò e buongiorno dottor usaccio hai visto ha detto ma che è successo c'è stato un cortocircuito dottor eh ma le chiamate i pompieri eh sì che le chiamate dottor e che ti hanno detto hai chiamato hai detto la caserma dei pompieri e io che ti hanno risposto parà bonzu bonzu po hai chiamato hai chiamato hai chiamato